Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Nuovo patto tra Fanno e Pesaro, i due sindaci siglano un accordo su infrastrutture ed eventi 18enne si sporge troppo e cade nel fiume Misa a Senigallia, recuperata dai vigili del fuoco A 94 anni si è spento il dottor Gabriele Manna, medico di famiglia a Cartoceto Fra poco ci collegheremo dal centro storico di Fanno dove ha preso il via alla festa dei quattro cantoni A Piaggia sarà un fine settimana all'insegna dello sport con la 24 ore di calcetto Buonasera e benvenuta a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con l'incontro che questa mattina si è tenuto a Fanno Dove la giunta di Massimo Seri ha accolto quella di Matteo Ricci Tra i temi affrontati, la viabilità e la promozione turistica E pace fatta tra i due lanti Massimo Seri e Matteo Ricci Questa mattina hanno sottoscritto un patto territoriale per lo sviluppo urbano Seppellita la scia di guerra tra i due sulle questioni che li hanno sempre divisi e contrapposti I due primi cittadini hanno costituito con questo accordo un asse per lo sviluppo organico delle due città Imperniato su due grandi tematiche, le infrastrutture e la cultura Un avvenimento carico di significati sia evidenti che nascosti Che sappiamo quanto in politica il linguaggio non verbale conti di più di quello palese Su questo fa riflettere il fatto che la riunione delle due giunte e l'accordo tra le due amministrazioni È avvenuto a Fanno nella sala della Concordia prima e nell'ufficio del sindaco Seri dopo In controtendenza alla supposta sudditanza di Fanno e del suo primo cittadino sul capoluogo di provincia e di Ricci Un momento che Seri, prendendo la parola per primo, non ha esitato a definire storico Quando gli obiettivi sono importanti, sono straordinari e possono portare un beneficio, lavorare insieme Noi qui stiamo veramente parlando di progettualità che possono cambiare il volto del territorio Possono cambiare le opportunità, possono far crescere il nostro tessuto Perché hanno anche ricadute di carattere economico importante Ricci ha detto che vi sosterrà nelle vostre richieste in regione per quello che è il tema della sanità Lo farà anche in tema di aria vasta che sarà il prossimo argomento caldo? Sì, l'aria vasta lo dico con chiara e tondo, io penso che da Fanno non si sposterà Fanno e Pesaro sono le città che grazie allo sblocco del patto di stabilità e alla brovura dei suoi amministratori Hanno investito di più in infrastrutture e grazie alle opere compensative della 14 Stravolgeranno nei prossimi anni la loro viabilità Inoltre, importanti decisioni nelle stanze dei bottoni delle ferrovie dello Stato Stanno per essere prese per la linea adriatica Bologna-Bari Per il miglioramento della velocità E questo significa lo spostamento della linea ferroviaria più a monte Un'occasione da non potersi lasciare sfuggire dalle due città E oggi rilanciamo, rilanciamo sull'arretramento della ferrovia Perché potrebbe essere un'occasione storica E rilanciamo anche sul potenziamento della statale Sapendo che sugli investimenti infrastrutturali possiamo dare una mano enorme all'economia locale E al tempo stesso giocarci una grande partita di competitività Sulla sanità è pacefata, dicevamo Anzi, Matteo Ricci annuncia che Pesaro supporterà in regione Fano Per ottenere tutto quanto è stato predisposto sul piano sanitario A salvaguardia del Santa Croce Fano appoggerà Pesaro per la candidatura a Città Europea della Musica E viceversa per la candidatura di Fano a Città della Cultura Inoltre i due brand cittadini più riconoscibili Quello di Rossini e del Carnevale Parleranno la stessa lingua Anzi, si supporteranno a vicenda Insomma, tutto rose e fiori Per un'alleanza che potrà essere di esempio futuro Anche per altre realtà marchigiane Una diciottenne di Forlì è caduta accidentalmente nel canale del fiume Misa Senigallia Durante una delle serate del Summer Jamboree L'episodio si è verificato ieri sera intorno alle ore 23 Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 I vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani Mentre questi ultimi tenevano lontani i curiosi Che affollavano il centro storico preso d'assalto per la manifestazione I pompieri hanno calato una barella e recuperato la giovane Questa cadendo ha battuto la schiena nel fondale molto basso E si è ferita un ginocchio e un braccio Non versa comunque in gravi condizioni Ha riferito di essere caduta nel fiume dopo essersi sporta dal parapetto di protezione Dopo recupero è stata affidata ai sanitari per le prime cure E poi portata nel vicino ospedale Blitz notturno invece della Capitaneria di Porto di Pesaro Sulle spiagge libere, in particolare nella zona di Sottomonte L'attività ha dato luogo all'accertamento di violazioni amministrative E al sequestro di un'ingente quantità di materiali 108 ombrelloni, 64 relative basi di plastica 22 sdraio, 20 lettini, 45 piatti per ombrellone e un tavolino in plastica L'azione di contrasto ai fenomeni di abusivismo Ha perseguito anche l'obiettivo di tutelare il legittimo interesse degli operatori di settore Che esercitano la propria attività nel rispetto delle regole I controlli continueranno durante tutta la stagione estiva La prontezza di riflessi di un finanziere fuori servizio ha salvato Pensate la vita ieri a un passeggero di un treno diretto ad Ancona Sentiamo L'ex comandante della polizia tributaria di Pesaro, Giuseppe Romanelli Attualmente al comando del nucleo di polizia tributaria di Forlì Nella giornata di ieri, poco prima delle 20 Ha salvato la vita ad un passeggero del treno diretto ad Ancona Un uomo di 39 anni era a bordo del convoglio Quando in preda a crisi convulsive croniche È caduto a terra sbattendo violentemente la testa Ed il corpo procurandosi lacerazioni e lesioni al volto In particolare a labbra e zigomi Il caos che si è creato subito dopo Con intere famiglie che scappavano dal vagone impaurite Stavano creando seri problemi di ordine e di sicurezza I passeggeri in preda al panico non sapevano come intervenire Ed i bambini presenti alla vista del sangue Hanno incominciato a piangere e a strillare Solo il rapido ed efficace intervento dell'ufficiale delle fiamme gialle Romanelli Che era libero dal servizio e che stava rientrando a casa da Forlì a Fano Ha permesso di risolvere la situazione Romanelli non solo ha cercato di mantenere la calma a bordo del vagone Ma riconoscendo da subito il problema Ha prontamente somministrato dello zucchero in bustina al passeggero Ormai in coma glicemico salvandogli di fatto la vita Il tenente Colonnello ha poi continuato a prestare soccorso al 39enne Fino all'arrivo del treno nella stazione di Rimini dove a lungo è rimasto fermo Solo dopo decine di minuti la situazione a bordo è tornata alla normalità Tra gli applausi scroscianti dei presenti permettendo così alla polizia e ai soccorritori del 118 di intervenire E si è spento all'età di 94 anni all'ospedale di Fano Gabriele Eman Al dottore che per tanti anni ha prestato servizio come medico di famiglia nel comune di Cartoceto In via eccezionale i funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 17 Nel convento di Santa Maria del Soccorso a Cartoceto Luogo a cui era molto legato Mentre questa sera dalle 20 e 30 nella stessa chiesa La comunità lo sta ricordando con la preghiera del Santo Rosario E ancora cronaca I carabinieri di Cagli hanno arrestato un trentenne di Apecchio per detenzione e spaccio di stupefacenti Martedì 1 agosto l'uomo stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa Con due ragazzi Una 21enne di Cagli e una 25enne di Pergola Quando è stato fermato dai militari per un controllo Dopo un'ispezione del veicolo è stato rinvenuto un bilancino di precisione Con un frammento di hashish, nonché diversi grammi di marijuana I ragazzi sono stati condotti al comando della stazione dei carabinieri Che dopo aver ricevuto rinforzi dai comandi di Cantiano e Fossombrone Hanno proceduto alla perquisizione delle abitazioni dei ragazzi Nella casa del trentenne sono stati trovati 50 grammi di cocaina Oltre 150 grammi di hashish Un ulteriore bilancino di precisione necessario per il confezionamento delle dosi Ieri poi l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto dell'uomo E ne ha disposto agli arresti domiciliari Mentre le due giovani accompagnatrici sono state denunciate a piede libero Le indagini dei carabinieri proseguiranno per scoprire la provenienza dello stupefacente E sono 5 su 12 i punti delle acque marchigiane monitorate Che superano il limite di inquinamento previsto dalla legge E corrispondono per lo più a foci di fiumi e torrenti I prelievi e le analisi di Goletta Verde Sono stati eseguiti dal laboratorio mobile di Lega Ambiente il 29 e 30 luglio scorsi In provincia di Pesero Urbino su tre punti campionati Due sono risultati entro limiti La spiaggia presso la foce del torrente Arzilla nel comune di Fano E la foce nel fiume Tavollo nel comune di Gabicemare Mentre fortemente inquinato è stato il giudizio emerso dai campionamenti Effettuati nella foce del fiume Foglia nel comune di Pesero Sotto accusa non soltanto l'assenza di cartelli e l'aumento di rifiuti Ma anche l'inadeguata informazione ai bagnanti Passiamo agli eventi perché poco fa ha preso il via la festa dei quattro cantoni Allora ci colleghiamo con Lino Balestra che si trova nel centro storico di Fano Eccolo qua già con i suoi ospiti Buonasera Lino Buonasera Simona Insieme all'operatore Filippo Pucci siamo venuti qui in uno dei quattro cantoni Siamo al Pincio dove c'è il cantone del Medioevo Dove naturalmente i padroni di casa sono gli amici della Pandolfaccia Che stanno ancora ultimando l'allestimento Qui l'allestimento è grosso e quindi stiamo finendo di ultimare Ma siamo pronti ad accogliere tutti quelli che verranno questa sera Senti ma il costume fra un po' Fra un po' quando ho finito di caricare i tavoli Naturalmente tutti lottano con le temperature africane Naturalmente quindi la fatica si raddoppia Però vedo che c'è qualcuno che stoicamente già No ma io praticamente ho messo la tenuta estiva dei malatesti L'invernale è un po' troppo pesante Va bene Quattro cantoni quindi il Medioevo Gli anni 50 che in questo momento non ci sono perché sono indaffarati Il cantone del mare con le specialità Insomma una delle anime di Fano Il mare, i marinai e tutto quello che ne comporta Certo abbiamo portato in centro tutto quello che è il mare Tutto quello che è le nostre tradizioni, cultura culinaria E comunque sia tutte le nostre attrezzature del mare E siamo arrivati con una barca alla prima porta di Fano Bene il primo cantone, il cantone d'ingresso dalla parte di Pesaro Porta Giulia, giusto? Porta Giulia Quindi poi dall'altra parte invece c'è Borgo Cavour Con un allestimento particolare quest'anno Esatto, quest'anno puntiamo sulle tagliatelle con i maghetti Perché? Perché è la tradizione mettere i fegatelli nelle tagliatelle con ragù E se non altro anche gli spettacoli di cartomanzia per il popolo Perché? Perché Piatelletti, via Cavour, è un quartiere popolare Per storia e per tradizione E quindi insomma il titolo è questo Maghi e maghetti Insomma poi ci sarà anche Filippo Tranquilli Con in versione mago molto speciale E insomma noi insieme a loro vi aspettiamo questa sera La prima serata delle due serate Vi posso assicurare che qui c'è insomma di che divertirsi Bere, mangiare e passare una bella serata in grande allegria Fabio, voi qui siete in allestimento Facciamo un invito a tutti quanti a venirvi a vedere Non solo voi ma tutti L'invito è quello di venire a vedere tutta l'iniziativa Perché comunque merita Merita perché valorizza tutta la città di Fano Ogni cantone valorizza la città E quindi il valore è proprio quello di venire a vedere Consumare dappertutto e votare Per quello che vi è piaciuto di più Perché c'è comunque una gara Quindi che rinca il migliore E poi io dico anche che nel cantone di Malatesta Si fa festa, si fa sempre festa Ha fatto anche l'anemia Quattro dei pescatori, una rima? Una rima non so La cantone del mar Non mi viene Cantone del mar Ogni cosa è bella e passa in allegria Perfetto, senza rima va bene uguale Va bene uguale Allora abbiamo schiettato voi Voi invece? Da un'osteria con la fame non si va mai via A posto, abbiamo fatto anche Al canton del mar Ogni scherz val Ecco, abbiamo coniato anche i messaggi giusti Oggi e domani per i quattro cantoni di Fano Divertimento assicurato Arrivederci Grazie Lino e buon proseguimento di serata Andiamo avanti con il nostro telegiornale Perché la chiesa di Santa Maria Nuova Fano Torna ad ospitare i concerti d'organo Ad inaugurare l'edizione 2017 Domani sera sarà Olga Laudonia Per gli amanti del genere è un appuntamento immancabile Unico in Italia e tre più longevi Arrivato alla sua 56esima edizione Protagonista assoluto tra l'altro è l'organo Che rappresenta un elemento di unicità nella rassegna Essendo stato costruito espressamente per il concertismo Concerti d'organo La rassegna che si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Nuova Vedrà esibirsi esponenti di primo piano a livello mondiale Apre l'italiana Olga Laudonia il 4 agosto A cui seguirà Ferruccio Bartoletti l'undici Poi il 18 ci sarà il recital d'organo del francese Jean-Pierre Criveaux A chiudere l'insolito ma suggestivo duo violoncello e organo Targato usa Angela Lee e Jonathan Dimmock Ma agosto vedrà anche sbarcare a Fano il prestigioso Brancalioni International Music Festival Con un concerto l'8 di agosto Nella splendida cornice della chiesa di San Francesco Dove stelle e musica si fonderanno insieme Per una magia grazie all'associazione musicale arte e cultura Appennino di Piobico Che porterà nella città della fortuna Studenti e professori da ogni parte del mondo Abbiamo soprattutto pianisti, violincellisti, violinisti E in particolare cantanti, cantanti d'opera Naturalmente all'interno di queste manifestazioni Che loro organizzeranno Ci saranno anche i maestri stessi, i professori stessi Che naturalmente si esibiranno Non hanno nulla da invidiale alle manifestazioni A livello nazionale da Milano Anche al nostro manifestazione di Pesaro Perché sono veramente bravi Quando ci sarà? Dunque abbiamo l'8 a Fano E il 9 a Fossombrone Nella chiesa di San Filippo A Fano e nella chiesa di San Francesco A chiesa a Cielo Aperto Che è senz'altro una location stupenda Per questo tipo di manifestazioni E la riserva naturale Gola del Furlo Diventa sempre più sostenibile Per tutto il mese di agosto Il sabato dalle 13 alle 19 E la domenica dalle 9 alle 19 Verrà chiuso al traffico Ad esclusione delle biciclette Il tratto della vecchia Flaminia Che conduce alla Gola Dalla diga Enel di Fermignano Alla fine del centro abitato del Furlo Una scelta condivisa Tra la provincia di Pesaro Urbino Ente gestore della riserva E comuni di Acqualagna e Fermignano Per preservare le bellezze naturali Dei luoghi E consentire al tempo stesso Ai visitatori e turisti Di godere della riserva Senza rumori e pericoli Causati dal traffico In collegamento con la chiusura Della vecchia Flaminia Resa possibile per la presenza Di un percorso alternativo La nuova statale Flaminia La provincia ha fatto ripulire Il parcheggio di Villa Furlo Sant'Anna A circa 30 metri dalla diga Enel Che consentirà di evitare La concentrazione di auto Nel parcheggio della diga E adesso passiamo allo sport Perché a piagge sarà un fine settimana Tutto all'insegna del calcio Infatti torna la 24 ore di calcetto Piagge torna a un torneo Molto amato Visto che siamo arrivati alla nona edizione Sì esatto Anche quest'anno Avis Piagge e Lubacaria Piagge Hanno rinnovato questa collaborazione Per una giornata Diciamo 28 ore All'insegna dello sport e del divertimento Il torneo inizierà sabato Verso le 17 E terminerà verso le 21 di domenica È sempre un momento di divertimento E infatti il connubio Avis e Lubacaria Lo dimostra Quindi alla fine della serata Ci sarà un concerto Sempre per rinsaldare Lo spirito di collaborazione Del gruppo Dove si terrà? Chi vuole venire a seguirlo? Come può fare? Allora si terrà nel municipio di Piagge Che adesso da quest'anno È terre roveresche E può venire in qualsiasi momento Sono aperti degli stand E come dicevo prima Alla fine della serata Ci sarà un gruppo musicale Che allieterà il termine della manifestazione Per informazioni vi potete rivolgere Alla pagina Facebook 24 ore Piagge E una cosa volevo ringraziare Vivamente visto che il torneo dura giorno e notte Volevo fare un ringraziamento a tutti i vicini Che purtroppo dovranno subire un pochettino di disagi Però li ringrazio vivamente Ringrazio sempre tutti i volontari Avis Piagge Lubacaria Piagge E il comune di terre roveresche E con lo sport chiudiamo qui il nostro telegiornale Fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Box A seguire in cucina con lo chef E poi lo speciale su Vallato in festa Grazie per la vostra attenzione E arrivederci a domani Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione Grazie a tutti.